Riccardo Paletti è stato un pilota automobilistico italiano, nato a Milano il 15 giugno 1958. Era figlio di una ricca famiglia di imprenditori milanesi che aveva costruito la propria fortuna come costruttore e immobiliarista. Il padre Arietto era un grande appassionato di motori, e sostenne la carriera automobilistica del figlio. Paletti iniziò la sua carriera nel 1978, gareggiando in diverse categorie, tra cui la Formula Fiat Abarth, la Formula 3 italiana e la Formula 2 europea. Nel 1982, grazie al sostegno finanziario del padre, Paletti debuttò in Formula 1, al volante di una osella Fiat Abarth.